numerosi miracoli giovanni di cronstad 1829 1908 asceta russo di arcangelos studia nell'accademia ecclesiastica di pietroburgo per poi essere sacerdote nella chiesa di sant'andrea a cronstad diventa presto una figura di spicco nella religione ortodossa già prima della morte gli sono attribuiti numerosi miracoli il suo corpo è trasportato a pietroburgo dove diviene oggetto di venerazione il suo libro la mia vita in cristo è una testimonianza del suo forte misticismo commento i miracoli non li ha fatti giovanni di cronstad ma la fede super normale di chi credeva in lui